benvenuti a call center cortesia dal vostro duilio scantamburlo call center cortesia è il luogo adatto per voi che avete un problema e che confrontandovi con me scoprirete che non è l'unico che avete allora chi abbiamo in linea questa sera si pronto buonasera sono salvatore da saltano da salzano salvatore da salzano ascoltami che problemi hai oltre l'accento salvatore e niente volevo sapere come si possono abbassare le spese per i lavori da fare in casa ad esempio no mi adesso con un tubo dell'acqua che perde non so cosa fare cioè proprio dovrei chiamare un idraulico ti costa la chiamata e ora prima di chiamare l'idraulico ti do un consiglio fa sta roba qua ti chiudi tutti i rubinetti sei sicuro che tutti i rubinetti sono chiusi dopo vai a vedere il contatore dell'acqua ok se gira vuol dire che c'è una perdita e ora diciamo l'idraulico se no no grazie grazie ottimo consiglio ottimo consiglio te ne dago anche un altro visto che siamo qua e prova a aprire tutti i rubinetti di casa e va a vedere il contatore dell'acqua se non gira vuol dire che il contatore si è rotto ma la non sta a chiamare nessuno bene bene grazie a te salvatore no ma aspetta aspetta tu gli posso domandare una roba visto che sei così bravo a dare dei consigli comandi c'ho un problema come se io 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 sì cosa tenai io 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 proprio è praticamente ogni volta che vai in bagno sì ecco non tira mai l'acqua gravissimo male male malissimo gravissimo non si fa è pericoloso come pericoloso è pericolosa è una questione di vita o di morte allora dirà a tuo figlio che tira sempre l'acqua non faccia come me che una volta sono andati in bagno, non ho tirato l'acqua e dopo che è entrata mia moglie dopo di me è uscita che piangeva perché? l'anni tra vicino, e era morta oh mamma mia quando piance grazie e arrivederci alla prossima puntata di Call Center Cortesia